MIT, Massachusetts Institute of Technology, a Cambridge, una delle più famose e prestigiose università del mondo. Sicuramente la più importante quando si tratta di tecnologia e innovazione. 96 premi Nobel, sono usciti da lì 8 medaglie Fields, 26 premi Turing e poi si possono elencare un miliardo di altri riconoscimenti ottenuti da alunni, professori e ricercatori dell'MIT appunto. Bene, tutto questo non arriva certo cazzeggiando e studiacchiando, ci si impegna all'MIT, si studia sul serio e la laurea non è solo un pezzo di carta qualsiasi che si regala a chiunque scaldi in banco per un po'. 8 anni fa Scott Young, un ragazzo canadese laureato in economia, blogger e scrittore, appassionato di apprendimento efficace decide di sfidare l'MIT e imparare da solo in un anno l'intero curriculum di scienze informatiche per mettere alla prova le tecniche di apprendimento efficace che conosce, di aumento della produttività e per dimostrare che imparare rapidamente si può e che la struttura dell'istruzione universitaria è superata e superabile. Could you learn an entire four year computer science degree from MIT in just 12 months? Ce l'ha fatta? Scopriamolo insieme. In questo video vi racconto della sfida di Scott Young, di come la condotta delle tecniche che ha utilizzato, di cosa ne penso e di come è andata a finire. Ne approfitto per ringraziare Riccardo che mi ha fatto scoprire la figura di Scott Young ed è quindi responsabile per questo video e che tra l'altro è stato il primissimo corsista a completare Sistema DC, il mio videocorso completo sul metodo di studio, veterano. Prima di scendere nel dettaglio dell'ambiziosa sfida di Scott Young e dei metodi che ha impiegato, dobbiamo capire perché ha deciso di fare tutto questo. Le ragioni sono principalmente tre. La prima è di carattere personale. Scott vuole mettersi alla prova, testare le sue abilità e impadronirsi di una materia, l'informatica, che ama molto fin da ragazzino e che pensa potrà tornargli utile in futuro. Ma non ha alcuna intenzione di tornare indietro al college. I wanted the education, not the school. La seconda è di carattere quasi provocatorio, critico. Entrano in gioco qui tutta una serie di considerazioni su quanto costa l'istruzione di alto livello negli States, ma anche su quanto effettivamente serva una laurea nell'ottica di lavorare in certi campi. È una presa di posizione la sua, anche piuttosto interessante, sul valore dell'apprendimento autonomo, dell'istruzione non convenzionale e della formazione personale continua. Infine, la terza ragione è di carattere mediatico, possiamo dire così. Scott è un imprenditore e vuole giustamente promuovere la sua attività con un'impresa che farà discutere. Queste sono le motivazioni che spingono Scott a questa impresa titanica. Passerà circa 60 ore alla settimana, poi ridotte nella seconda parte, nella seconda fase a 35, a studiare usando i materiali gratuiti messi a disposizione dall'MIT stesso, tra cui soprattutto le videoregistrazioni delle lezioni e poi materiali didattici vari, esempi di test di valutazione e così via. Si autovaluterà sostenendo delle simulazioni d'esame quanto più simili al reale contesto possibile, tra cui anche il tempo ovviamente, delle quali si autocorreggerà i risultati, stabilendo come soglia di superamento della prova un punteggio superiore al 50%. Inoltre, svolgerà gli stessi progetti e ricerche assegnati agli studenti, completando un numero di crediti paragonabile a quello di un curriculum regolare all'MIT. Non parte completamente da zero, è un appassionato di programmazione fin da ragazzino, come dicevo, e nel corso della sua laurea in economia ha frequentato e superato quattro esami di informatica. Ma è da un po' che non ci mette le mani. In ogni caso, si tratta di un programma davvero notevole, 52 settimane di full immersion per sfidare il sistema e vincere. Com'è finita la sfida? Beh, naturalmente, te lo racconto a fine video. Ora parliamo dell'approccio di Scott e delle tecniche che ha applicato. Ultra Learning. Questo è il nome, anche un po' arrogante, ma ci piace, della filosofia di studio di Scott Young, da cui trae il nome anche il suo libro. È una strategia di apprendimento autogestita e aggressiva, semplice e brutale. Queste sono le tecniche messe in atto da Scott nei 12 mesi della sua MIT Challenge. Le descriverò e per ognuna farò un brevissimo commento per dirti che cosa ne penso in prima persona e fare anche qualche piccola critica. Creare un registro del tempo. Lui lo chiama Time Log. Io lo chiamo Master Plan, ma il principio è sempre lo stesso. Prendere il controllo del proprio tempo e della propria produttività, segnandosi quanto dura ogni singola attività della nostra giornata, ottimizzandola e costruendo un piano accurato delle nostre settimane. Fissare obiettivi chiari, fare un bel po' di ricerca preliminare, prima di mettersi a studiare effettivamente, per capire quali siano le strategie più efficaci nello specifico campo in cui vogliamo immergersi, pianificare, prepararci, ragionare sul progetto di apprendimento stesso, concentrarsi per creare delle abitudini che potenzino la nostra produttività. E questo non potrebbe trovarmi più d'accordo. È uno dei principi fondamentali su cui baso il metodo di studio che io stesso insegno. E ho visto studenti letteralmente trasformati da questo approccio. Sfruttare l'immersione. Scott è una macchina da guerra. Concentrazione assoluta. Guerra totale al multitasking, alla distrazione, vita monacale e minimalismo organizzativo. Il canadese è della stessa scuola di Cal Newport, di cui ti consiglio, ti ho già consigliato in passato i libri. E di cui sono anch'io in qualche modo. Quella che pone la capacità di focalizzarsi come prerequisito di base per poter imparare in modo efficace ed efficiente. Di strategie per aumentare la capacità di concentrazione ce ne sono tantissime. Se ti interessa, recupera questo mio video che descriveva le più importanti e immediate da applicare. Aumentare la pressione. Scott Young crede nel valore della pressione, della paura, nella giusta dose e dell'eccitazione. E allora che cosa fa? Prima di tutto costruisce per se stesso una sfida tanto ambiziosa da poter sembrare folle. L'MIT Challenge appunto. E già questo è una pressione non da poco. Ma non solo, non si ferma lì. Decide anche di rendere il tutto pubblico. Scrivendo articoli di blog e documentando con dei video l'intero processo mentre lo compie. In questo modo rimuove la possibilità di inventare scuse e concentra su di sé l'attenzione. Creando di fatto nuovi motivi per rimanere costante e fedele agli impegni presi. Su questo io sono d'accordo ma solo fino a un certo punto. Nel senso che la strategia di pressione che sfrutta Scott è un'arma certamente affilata ma a doppio taglio e non adatta a tutti. In primis perché ci sono persone che non riescono a reggere dei ritmi del genere e il peso tra l'altro di avere tutti gli occhi addosso. E in secondo luogo perché è una scelta che porta a conseguenze notevoli di stress sul lungo periodo. Non è qualcosa che si può erigere ad approccio standard. Bensì un'estremizzazione che può andare bene per sfide di questo tipo, non per lo studio quotidiano di chiunque. Prendere appunti sottosteroidi. Che è solo un modo di dire, mi raccomando, che io sappia Scott non si è mai iniettato qualche strana sostanza per diventare palestrato. Quello che voglio dire è che Scott ha sfruttato al meglio le possibilità date dall'avere a disposizione le registrazioni delle lezioni. Non soltanto aveva la possibilità di interrompere la lezione addove avesse bisogno di più tempo o per inframezzarla con degli esercizi in più, ma anche perché ha potuto risparmiare tempo in primo luogo ascoltando gran parte delle lezioni a velocità aumentata, accelerate di circa il 50%. Anche qui sono un po' d'accordo, un po' non d'accordo, perché come con la lettura, la velocità di per sé non è una cosa negativa quando è ben gestita e sicuramente ci sono porzioni di lezioni o addirittura lezioni intere che si possono seguire anche al doppio della velocità o magari anche saltare senza problemi. Inoltre credo molto nella comodità delle video lezioni, è uno dei motivi per i quali ho deciso di iniziare a produrre videocorsi in prima persona, ma ancora una volta non mi sembra una strategia generalizzabile. Bisogna fare molta attenzione ad aumentare troppo la velocità. Il rischio è un callo nella comprensione che poi si traduce in un allungamento dei tempi invece che in una loro diminuzione. E quindi occhio e smettetela di guardarvi i miei video accelerati. Applicare la tecnica di Feynman Dopo aver preso appunti, Young applica sulle parti più complesse del programma la famosissima tecnica di Feynman, di cui continuo a rimandare il video, però non si sa quale motivo, giuro che arriva presto, la settimana prossima ci lavoro. In sostanza prende l'argomento, ci ragiona, si mette nei panni di un insegnante che deve spiegarlo a qualcuno ignorante in materia, un bambino addirittura, e riscrive il tutto aggiungendo esempi, disegnetti, spiegazioni, metafore con un linguaggio il più semplice, chiaro e diretto possibile. Nel fare questo è costretto a rielaborare, a ripensare, approfondire, mettere ordine nella sua mente e chiarire dunque le parti più complesse. Come dico ogni volta che qualcuno mi parla della tecnica di Feynman, io trovo che sia forse la singola metodologia di comprensione e rielaborazione più potente ed efficace, ma non la più efficiente. Quel premio va assegnato agli schemi, a mio avviso. La tecnica di Feynman è lenta, purtroppo, ed ecco quindi che applicarla sull'intero programma risulta praticamente impossibile, insostenibile. E infatti, nei materiali che si trovano sul sito di Scott Young, le parti descritte con questo approccio sono in realtà una piccola percentuale dell'intero programma che ha studiato. La maggior parte di quello che ha studiato è rimasto semplicemente sui suoi appunti. Seguire il ciclo del feedback. Il testing e il richiamo attivo sono alla base del metodo di Scott Young e mi sento immediatamente di sottoscrivere questo approccio in pieno. Esercizio, 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 dando la precedenza sempre agli argomenti più complessi, attaccando senza pietà i nostri punti deboli e continuando a esercitarsi finché non li abbiamo superati. Importante è anche il concetto di overlearning, ovvero esercitarsi anche oltre al punto in cui semplicemente siamo capaci di fare qualcosa o di risolvere un problema o ci siamo impadroniti delle informazioni. Continuare ad esercitarsi per diventare sempre più rapidi e più fluidi, per approfondire l'apprendimento. Specialmente per quanto riguarda i passaggi fondamentali, le basi non si esercitano mai abbastanza, come sa chiunque abbia mai fatto arti marziali o una qualsiasi altra disciplina. Scott sottolinea inoltre la necessità di avere un feedback diretto e costante, senza filtri, di poter immediatamente verificare cosa abbiamo sbagliato e correggerlo. E anche qui mi trova pienamente con corde. Andare dritti al punto, connesso al meccanismo del testing e del feedback, c'è anche quella che Young chiama directness. L'idea di andare dritti verso quello che ci interessa ed esercitarsi direttamente su ciò che vogliamo fare. Non divagare, non perdersi in esercizi inutili e se vuoi imparare a correre, vai a correre. Una roba così. Nel caso di Scott questo si è concretizzato nel concentrare tutti i suoi sforzi su quelle abilità e competenze che gli permettessero di passare i test e di procedere con la sua sfida. Questo modo di affrontare lo studio è senza dubbio efficace, ma va preso cum granosalis per dirlo alla latina e farci fighi, e cioè con un po' di buon senso. Occhio a non malinterpretare questa idea e a finire per studiare solo le domande più probabili o a snobbare la conoscenza vera e profonda in favore di un'infarinatura superficiale che vi porta a raggiungere il famoso livello va là che me la cavo. Andare dritti al punto significa simulare il contesto in cui saremo valutati, dare priorità alle attività dirette. Ma non significa sacrificare la qualità in nome del passare a tutti i costi con meno sforzo possibile. Giocare e sperimentare. Questo è il principio che Scott sfrutta per rendere anche più sopportabile uno studio tanto serrato. Deve essere stato veramente pesante, mettetevi nei suoi panni. cerca sempre di divertirsi con ciò che impara, di trovare modi alternativi di concretizzarlo, di essere giocoso nel suo approccio, di farsi piacere alle materie. Ne ho parlato in questo video tra l'altro. E poi ci sono le ripetizioni programmate e questo è l'ultimo principio di quelli fondamentali applicato da Scott, ma l'ho volutamente lasciato per ultimo perché è il più controverso della sua sfida. Chiunque abbia mai affrontato in modo serio il tema del metodo di studio e dell'apprendimento efficace sa che esistono due grandi forze opposte tra loro, il cramming e lo spacing. Il cramming è l'accumulo in full immersion a ridosso degli esami, più spinto verso la memorizzazione che verso la comprensione profonda, mentre lo spacing è l'approccio opposto, distribuito con ripetizioni spalmate nel tempo. Lo spacing è l'unico metodo che garantisca reale efficacia a lungo termine e qualità nello studio. Ma il cramming ha dei vantaggi in termini di voto a breve termine. Se ti interessa approfondire tutta la questione, trovi questo mio video specifico. Ora, Scott sa tutto questo, ma sa anche che il principio dello spacing fa a pugni con l'idea stessa di comprimere 4 anni di università in uno. La soluzione che trova è quella di seguire 3 o 4 corsi diversi allo stesso tempo, portandoli avanti in parallelo. E a detta sua, migliorando in questo modo l'implementazione delle ripetizioni programmate e concentrandosi in ogni caso sulla comprensione profonda. E qui, beh, è un po' un arrampicarsi sugli specchi se chiedete a me. E lo stesso Scott in realtà concorda. La verità è che un approccio così estremo all'apprendimento non si sposa con il ricordo a lungo termine e con l'interiorizzazione. Ma ne riparliamo fra un minuto verso la fine del video. Ecco, ti sei fatto un'idea quindi di perché e come Scott Young abbia portato avanti la sua sfida, di su quali principi si fondi il suo ultra learning e di che cosa ne pensi di ciascuno di essi. Ma rimane ancora una domanda. Alla fine, ce l'ha fatta oppure no? È riuscito a imparare il programma dell'intero corso di laurea in informatica dell'MIT in un anno? Beh, in qualche modo sì. Nel senso che su 33 simulazioni d'esame che ha sostenuto ne ha passate con più del 50% di risposte corrette, 33. Tutte. Ed è riuscito a terminare tutte le esercitazioni, i progetti e le ricerche connesse con i vari corsi. Riprendendo un po' le ragioni iniziali che descrivevamo, di sicuro è riuscito ad impadronersi dell'informatica a un livello notevole, ha completato un percorso paragonabile a quello di una laurea all'MIT e ha pure ottenuto di far parlare di sé, visto che è finito pure in un TED Talk. Missione compiuta da tutti i punti di vista, quindi. Più o meno. Sì, perché ci sono in realtà anche diverse critiche all'impresa di Scott, oltre a quelle che ho già sollevato io su alcuni punti specifici del suo metodo. Partiamo con le critiche che lui stesso riconosce. La prima, la più importante, è senza dubbio quella di cui parlavamo pochi secondi fa quando ho nominato il principio dello spacing. 12 mesi probabilmente non sono sufficienti a consolidare un programma tanto vasto e difficile. E personalmente ho parecchi dubbi che lui abbia trattenuto molto di quello che ha studiato sul lungo periodo. Mi piacerebbe oggi, a sette anni di distanza, chiedergli quanto si ricorda. La seconda criticità che individua lo stesso Scott è l'assenza di confronto con altri studenti e la mancanza di partecipazione all'ambiente e alla vita universitaria, che non ha solo conseguenze sociali, per così dire, ma anche sul passaggio di informazioni. Di fatto è una importante fonte di feedback e di confronto che è stata completamente eliminata. Infine, per Scott, un terzo problema è la mancanza di sufficiente overlearning, e cioè per certi concetti chiave, in particolare di matematica, non si è allenato abbastanza e rischia tutto questo di fare scricchiolare la sua competenza negli argomenti più complessi. Non mancano poi le critiche, anche un po' velenose a dire il vero, che arrivano dall'esterno, la prima delle quali non poteva che essere la classica è solo una strategia di marketing, lo fa solo per promuovere i suoi corsi. E lasciatemelo dire qua, mi prendo un secondo per sfogarmi. Questa cosa ha stufato. Non è che se uno ha anche dei fini commerciali, allora qualunque cosa faccia e dica per forza è fraudolenta e inutile. Io vendo corsi, ma questo non mi impedisce di creare contenuti, prodotti e servizi di qualità e di evitare di imbrogliare la gente. Qualunque divulgatore promuove i suoi libri, qualunque pizzeria cerca di vendere le sue pizze, non c'è niente di male. E soprattutto, tornando a Scott, questo non ha alcuna attinenza con la validità o meno della sua sfida. C'è chi puntualizza che in effetti non ha davvero quadruplicato la velocità di laurea come lui stesso afferma, l'ha soltanto raddoppiata perché un anno di MIT non dura 52 settimane, bensì 30, e in più ci sono le vacanze e bla 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 bla. Altra critica che secondo me è piuttosto fine a se stessa, raddoppiare la velocità è comunque sorprendente. C'è chi fa presente che autovalutare i propri esami e le proprie esercitazioni introduca un bias. Ma devo dire che, osservando tra il materiale che Scott diffonde, mi è sembrato abbastanza oggettivo e inoltre le materie che ha studiato portano a esercizi e risultati dai parametri chiari. Non lo vedo quindi come un grosso problema. Qualche studente dell'MIT invece, giustamente, fa notare che quello che ha realizzato Scott Young non sia davvero paragonabile a un'istrazione universitaria di alto livello dell'MIT. Non solo per le questioni sull'apprendimento a lungo termine, di cui abbiamo già detto, ma anche perché gli mancano alcune parti del curriculum dell'MIT stesso, come degli esami per esempio di materie umanistiche, e poi in particolare i laboratori, confronti, esercitazioni di gruppo, ritenute fondamentali. Ma alla fine di tutto, bilancio alla mano, io, che cosa ne penso? Beh, penso che la sfida di Scott Young sia un esperimento interessante, utile, che ci insegna quanto distante dal senso comune sia davvero il limite delle capacità umane e quanto la produttività possa essere ottimizzata anche nel campo dell'apprendimento. E quindi ho un sacco di rispetto per Scott Young, per quello che ha fatto, e adoro le sfide di questo tipo. Mi piacerebbe in futuro anche provare a farne qualcuna, magari su una scala più piccola. Ma non credo, allo stesso tempo, che vada preso a modello. Il suo metodo di studio è basato su principi reali ed efficaci, ma spesso portati all'estremo, fino a diventare pericolosi. Inoltre, in un certo senso, è anche un metodo molto elementare, che poteva essere senza dubbio raffinato e migliorato, e che non offre grandi risultati sulla lunga distanza. E poi, come dicevamo, alla lunga un tale carico di lavoro, ammesso che si riesca a sopportarlo, porterà inevitabilmente a uno stress enorme, e dunque non potrà mai diventare la normalità, anche se ci piacerebbe. E tu? Che cosa ne pensi? Fammelo sapere qui sotto, naturalmente, aspetto di sapere cosa ne pensi di questa impresa, se ti piacerebbe fare qualcosa di simile. Io sono Alessandro De Concini e questo è ADC 2.0. Ti parlo tutti i giorni di apprendimento, cognizione, cultura, metodo di studio, sulla mia pagina Facebook, Alessandro De Concini ADC, su YouTube, su Instagram, tramite il mio blog, e su tutti i canali social possibili e immaginabili. Noi ci vediamo domani per un prossimo video e nel frattempo, ultra apprendi come Scott Young.